I don't need a dime bitch, I'm still a high roll up Salve a tutti ragazzi, io sono Bertra e benvenuto a questo nuovo video Oggi siamo qua perché i Simpsons hanno deciso di regalarci una nuova perla Un nuovo memotto che è diventato stra-invoga ultimamente Che ho salvato, adesso ho un materiale abbastanza da farvi vedere con tantissimo gusto Perché questo sarà uno dei meme di maggio, ne sono più che sicuro Quindi mi raccomando, 3000 mi piace per altri memotti bellissimi E partiamo subito con... non so neanche come chiamarlo Sicuramente l'avrete visto tutti E' un meme molto simpatico di Homer che fa il bagno con Barti e gli spaccano la sedia in testa Ma ci sono tantissime versioni, vediamone un po' Ecco, la maggior parte sono quella musica e sono di qualità altissima Soprattutto per l'impegno nel metterla in sync, ragazzi ma che cazzo che stiamo parlando? Già solo questa Che poi sta canzone è bellissima, quindi valore aggiunto Vediamo un po' ancora che c'è Ah, questa è reverse ma qualità E si ferma su questo fermo immagine bellissimo di Homer Che vede la madonna, è stato... ha visto il signore sulla via di Damasco Oh, ah questa anche... ragazzi per tutti voi che giocate a Minecraft Non mi ricordo neanche la musichina di Minecraft Tant'è che non ci gioco Un giorno se mi date abbastanza soldi farò una live su Minecraft Giuro Questo che cos'è? Mamma mia che qualità, pure i Queen mi mettono qua così a sorpresa O non meno ti aspetti, papapam I Queen Perché c'è Fry? Che cazzo è sta roba? Sono confusissimo, perché c'è Fry? Va bene, i mashup quelli della vita proprio Però soverei episodi... oh mio Dio No Cortissimo, soldato Bep Moteva durare un po' di più ma noi lo apprezziamo anche così Perché i meme e anche quelli di due secondi sono belli perché ti... Sono brevi ma intensi Mamma mia Questo è... 2005 No, YouTube con le stelline Oh, quanti di voi hanno mai visto YouTube con le stelline? E i video con questa musica, tra parentesi Ma YouTube con le stelline è già tanto se l'ho visto io Quindi di cosa stiamo parlando? Qui vale... 2008, 2009 Mamma mia Che cosa? È Metal Gear? È Metal Gear! Snake! Snake! È bellissimo l'urlo all'inizio qua Pieno di dolore e sofferenza Questo che cos'è? Ma come anche Bart Che mamma mia Questo è zombie di COD Ma quanto belle poi le urla di zombie di COD Mi è venuta voglia di giocare anche a quello La Russia è il 1917 Che cosa? Alta qualità ragazzi Altissima qualità Di cosa stiamo parlando? Oh no Questa me la ricordo Mi sa Omer è l'ultra istinto ragazzi Di cosa parliamo? Cosa sta succedendo? Cosa? Perché Death Flanders? Sto male No, stop it Goku! No, stop it Goku! Ma che cazzo Cos'è Friends? Giustissimo Friends versione Simpsons Cos'è questo? Ma perché? Perché è così gratuito tutto? On Small Man Productions Presenta Man Getting hit By Cher Cher Che cazzo? Fatto da Dio Ma questo è il migliore per impegno Al momento ragazzi Di cosa stiamo parlando Questo è metà meme Al massimo livello Dead You Trippin Questi sono i Serl Mi sa Madonna quanto manda Sta musica Minchia Toto Minchia Africa Mamma mia Bello anche il frame finale Di Bart Completamente perso Nell'Africa E Omer che dice Voglio tornarci Ragazzi I meme Sulla cosa della Wii Sono tantissimi Sono strabelli Qui sotto Se arriviamo a 4000 like Vi giuro faccio un video solo Sui meme della Wii Eh? A livello alto Oddio Non mi sento tanto bene Bart Non mi sento molto bene È tristissimo Ah Eh cosa? Oh no è morto e basta Ah Ah È successo qualcosa di sbagliato Io andrò via Piano piano Pararara Papaparava Papaparava Parapara Ehi Vsauce Cosa? Perché c'è Vsauce? Ah no è Super Mario 64 Cosa cazzo? O paura O paura O paura O paurissima Cosa? Cosa? Oh Oh Giosu santo Cosa? Ah Che cazzo sto guardando So Rear You died Cos'è Cos'è? 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 Very good Bart Scusate per le orecchie Che ha le musiche Lo sapevo E' orribile da sentire così Ti prego smettila Quindi ragazzi per i meme su Omer oggi è tutto Mi raccomando se vi è piaciuto 3000 like 4000 se volete vedere il video sui meme sulla Wii Mi raccomando arriviamoci cazzo che a me piacciono Mi raccomando lasciate un bel mi piace, un commento, un'iscrizione Passate ai social soprattutto da Instagram che è molto bello Per il video oggi è tutto, un saluto a me tra e ci siamo e che al prossimo video Bella lì What the hell is wrong with you? no she sorry sorry it's a pretty standard stun homer